GINGAR! Anche lui deve essere preoccupato per Banette. Pikachu! Gingar! 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 Ging-Gingar! Gingar! 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 Sembri pensieroso, c'è qualcosa che non va. Ho come la sensazione che mi stia sfuggendo qualcosa di importante. Bentornati, ragazzi! Infermiera Joy! Sì, sono io. Terra chiama Brock, vuoi finirla? Fantastico! È lei la bambina della fotografia! Pì! Oh! doin' Come? Che sta succedendo qui? Oh, Gengar! Dov'è Manetta? Gengar! Abbiamo trovato la ragazza della foto! Gengar! 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 Oh, non è ritornato nel bosco! Gengar! Gengar! Ma è andato di là! Gengar! Gengar! Dragonite! Segui Gengar! Quando ero piccola, persi un giocattolo che amavo tanto quando traslocammo nella nuova casa non pensavo che sarebbe diventato un Banette È quello! Gengar! Dragonite! È rimasto nella vecchia casa per tutto questo tempo ad aspettare me Oh, Bunny Ehi, Banette! Abbiamo trovato la bambina! Quella della foto! Oh, no! Vieni! Forza, Dragonite! Vai! Sei tu, però! Sei il mio Bunny Beh, bene! Beh, beh, beh! Oh, Bunny Ti ho lasciato solo per tanto tempo Mi dispiace tanto Ehi, Damian Nevi Ciao Bis l'ora Ciao Ciao Ciao